Nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Molfetta si è tenuto un percorso di formazione sulle Costituzioni del Concilio Vaticano II. Marilena Farinola. Un momento di riflessione per recuperare la vitalità di quanti vogliono rispondere con onestà e fermezza al Vangelo. Continua così il cammino sinodale attraverso un percorso di formazione e di studio sul Concilio Vaticano II nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Il primo incontro dal titolo Lumen Gentium, il cantiere della casa, è stato guidato da Don Silvio Bruno, parroco della parrocchia San Domenico. Oggi iniziamo nella nostra comunità parrocchiale questo cammino di formazione che vuole essere una seconda tappa del sinodo che stiamo vivendo. Abbiamo voluto vivere questo momento prendendo spunto proprio dal Concilio. Il Concilio, celebrato ormai 60 anni fa, abbiamo bisogno di conoscerlo e di approfondirlo. E quindi la nostra comunità parrocchiale, su ispirazione anche dell'azione cattolica parrocchiale, vuole vivere questo percorso di discernimento, di studio, di approfondimento, abbinando alle quattro costituzioni conciliari i vari cantieri che i Vescovi italiani ci hanno proposto per questo secondo momento del sinodo. E quindi alla Lumen Gentium, che ci parla della Chiesa, abbiniamo il cantiere della casa, la Dei Verbum e la Sacro Santum Concilium, il cantiere della formazione, e la Gaudium et Spes, il cantiere della strada, nel quale sono inseriti anche i giovani, perché non dimentichiamo che la nostra Diocesi ha voluto scegliere proprio come quarto cantiere quello dei giovani, quindi un'attenzione particolare non soltanto alla realtà giovanile presente nella nostra Chiesa Diocesana, ma in maniera particolare in questa comunità parrocchiale e nel nostro territorio parrocchiale. Quindi vuole essere un momento formativo, un momento di apertura per capire fondamentalmente chi siamo noi come comunità cristiana e come dobbiamo essere Chiesa, soprattutto in questo tempo particolare della nostra storia.